Allora, andiamo dritti al cuore del problema, coscia, mano, zampano, fa anche rima. Comunque, nessuno dice il mio assi, sempre parlare di mano comunque. Tra poco ci arriveremo, com'è andata lì? Com'è andata? Niente, è stato questo cross, mi sono trovato sulla linea di porta, è stata una azione talmente veloce che manco io me ne sono reso conto. Quando sono arrivato a casa ho visto le immagini e come è andata la situazione. Io l'ho presa di coscia e poi involontariamente mi picchiava sul braccio ma che era attaccata al corpo. Quindi è stata talmente veloce l'azione. Cioè è stato un gesto istintivo? Sì, ma manco l'ho fatto apposta, la gente dice volontario. Quindi insomma l'arbitro ha fatto bene, ha visto bene l'arbitro? Infatti ma nessuno si è lamentato in campo, nessuno ha alzato il braccio a dire rigore così perché hanno visto tutti. In realtà Preziosi si è lamentato. Vabbè, era dalla tribuna, non si vedeva la tribuna, ma neanche nella tribuna hanno detto qualcosa. E come Preziosi ha detto il Pescara ha protetto dai poteri forti? Magari, non si è visto fino a questo momento. Non dire nulla a Preziosi in questo momento? No, assolutamente. Un grande presidente, non dico niente. Senti Francesco, parliamo invece del tuo assolo strepitoso, insomma ispirato il gol di Manai. E questa posizione più avanzata in fase di spinta ti ha aiutato molto? No, vabbè, se andiamo a vedere l'azione l'ho fatta quando mi ha messo quattro basso, che sono partito da dietro. Niente, comunque ero molto emozionato, carico prima della partita perché comunque sono andato a Genova. Anche se ho giocato nel settore giovanile della Samp, è sempre bello giocare a Marassi e comunque conosce molta gente in tribuna, nelle curve, quindi sembra molto bello. Cioè avevi particolari motivazioni? Sì, assolutamente. C'era tutta la mia famiglia, zii, tutti quanti. Niente, sono contento come andata la partita, potevamo fare meglio come potevamo anche perdere, quindi è andata bene così. Però insomma in quell'azione si è visto tutto Zampano, insomma si sono viste tutte le qualità di Zampano, nel breve, hai saltato due avversari. Che devo dire, ho cercato di scattare l'avversario e mi è andata bene. E' andata bene. Senti, invece della posizione, un po' di fortuna, vabbè ci vuole sempre, la nuova posizione può essere anche il futuro, se vogliamo, di Zampano, no? Perché tu hai giocato da quarto di centrocampo in fase di spinta, da quinto in fase di non possesso. E ti libera un po' anche i compiti di copertura, se vogliamo. Allora, sinceramente io mi trovo meglio basso, terzino, perché comunque le mie caratteristiche sono proprio venire da dietro, essendo comunque veloce. Quindi ha sbagliato oddo. No, ha sbagliato oddo. In queste circostanze ha fatto bene perché serviva proprio per coprire le fasce, che loro erano molto bravi sul 2 cont 1 sulle fasce, quindi mi ha messo la larga a marcare l'axalte per non farli ripartire. Comunque al primo tempo tutta la squadra abbiamo fatto bene e niente, non posso dire che sia il mio ruolo, però io mi metto a disposizione del mister e tranquillamente dove mi metterà darò il 100%. Senti, Francesco, urge la prima vittoria sul campo. A proposito, da Sassuolo si dicono certi di riavere i tre punti. Non lo so, quelle cose là non manco letto, non mi interessano quelle cose lì, però noi ce la metteremo tutta. Sabato c'è una partita importante contro il Chievo e cercheremo di comunque raggiungere i primi tre punti, tra virgolette, in questo campionato che sarebbe bello anche per i tifosi. Senti un pensierino nazionale, visto che se ne parla, insomma. Come ho detto prima, non ho sentito queste cose qua, però... Giampiero non ti ha chiamato? No, no, il fratello mi ha chiamato. No, non so niente queste cose qua, come ho detto prima, penso a fare bene qua col Pescara e a salvarci il primo possibile. Senti, l'ultima, tracciamo un bilancio di queste prime sei giornate, forse avete toppato, ma limitatamente al secondo tempo, la partita contro la Lazio. Sì, non siamo entrati benissimo in campo, all'Olimpia come contro il genere, è una cosa che dobbiamo migliorare, anche il mister ci ha detto che entriamo in campo magari non concentrati come il primo tempo, poi soprattutto all'Olimpico o a Marassi come un pubblico così molto caldo, dobbiamo essere, dobbiamo entrare in campo molto concentrati. Grazie Francesco. Prego, grazie.